L'autunno ha il leggero vantaggio, l'autunno ha il leggero vantaggio, vediamo un po', in questo momento fa l'autunno e insieme la primavera, aspettiamo perché devono aver fatto comunque 11 salti perché magari una squadra si trova più avanti perché non ha effettuato tutti i salti, quindi bisogna aspettare comunque gli arbitri Allora, terzo posto per la primavera, quarto posto per l'autunno e anche qui appunto per un discorso di salti Passiamo alla finalissima, finalissima femminile in campo, l'inverno contro l'estate, corsia due estate, corsia quattro inverno E dopo ci saranno i maschietti, quindi prima la femminile, poi la maschile, poi la classifica sarà un'attunzione All'attunzione, è la finale femminile, al fischio si partono, ai punti, partiti Parità, parità E parità al fotofinish, anche questa gara, al fotofinish Veramente, ai corsi e due, all'ultimo salto Non lo so, Melania si è fermata, mi sa che non gliel'hanno data Si è fermata perché era arrivata No, lì lo sento dopo, lo fa pure fuori No, 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 no Se blocca il video dove devo parlare No, no, il cazzo è Allora, primo posto estate, secondo posto per l'inverno Allora, in campo adesso la categoria maschile